Pubblichi le foto del tuo negozio su Facebook, le tue creazioni su Instagram o le tue informazioni su Twitter. Con Swyte ottieni un sito web unico e professionale per i tuoi contenuti. Si crea in 42 secondi e si aggiorna da solo. Swyte utilizza i post, foto e video che pubblichi ogni giorno sul tuo social per creare e aggiornare il tuo sito web. Swyte è la soluzione per te se... Utilizzi Facebook, Instagram e altri social per promuovere la tua attività. Hai già un sito web ma non lo aggiorni da secoli. Oppure hai provato a realizzare tante volte un sito senza mai riuscirci. Come funziona? Scegli il social da cui prendere il contenuto. Seleziona il tema e il sito è pronto. Potrai decidere quali post mostrare, nascondere o aggiornare all'interno del sito. Aggiungere e personalizzare contenuti. Cambiare tema e colore al layout. Cambiare l'ordine e i nomi delle sezioni. Collegare più di un social network per visualizzarli in un'unica piattaforma. Aggiungere con Aruba.it il tuo dominio con email personalizzate. E fare tutto questo da qualunque dispositivo. Swyte. Semplice come un social. Professionale come un sito. Gratis solo su Aruba.it